Inchieste della magistratura sui crolli causati dal terremoto del 6 aprile. Facciamo il punto. Il gruppo del Tribunale dell'Aquila, Marco Bill, è rinviato a giudizio Livio Bearse e Vincenzo Mazzotta, rispettivamente presi del Convitto Nazionale dell'Aquila e dirigente del settore edilizia della provincia dell'Aquila. Il processo comincerà il 28 gennaio 2011. L'accusa è omicidio colposo, il riferimento ai crolli del Convitto Nazionale, sotto le cui maciere sono morti tre giovanissimi studenti, Luigi Cellini, Marta Zelena e Andrei Nuozoschi, rimasto ferito poi un quarto ragazzo, Mirko Colangelo. La difesa è pronta a dare battaglia, annuncia porteremo davanti ai giudici centinaia di testimoni. L'accusa sostiene invece che il Bearse e il Mazzotta non avrebbero tenuto conto della totale inadeguatezza dell'edificio, a loro nota ordinando l'evacuazione dopo le prime scosse e di non aver mai fatto sottoporre l'edificio a opere di ristrutturazioni. Quella del Convitto Nazionale è uno dei 200 fascicoli aperti nella maxinchiesta sui crolli, 100 di essi sono stati però già archiviati, in quanto non si sono ravvisate responsabilità umane. Procedono spedite le indagini, invece si attendono sviluppi giudiziari imminenti sui crolli più gravi, come quella del condominio di Via D'Annunzio 13 morti, di Via Francesco Rossi 17 morti, Civico 79 di Via 20 Settembre 9 morti, Via Sturso 20 morti e Via Cola della Matrice 12 morti.